Si svolgerà domani presso il Tribunale di Tenamo la prima udienza del processo per l'omicidio della piettrice Renata Napposelli. Numerose le emittenti televisive anche nazionali che hanno annunciato la presenza, una situazione su cui la parte civile aveva chiesto un procedimento a porte chiuse. Richiesta però respinta dal giudice Flavio Conciatori che presiede la Corte d'Assise. A presentarla è stata l'avvocato Anna Maria Ugello che rappresenta la figlia della vittima. Si tratta della figlia e sorella dei due imputati Giuseppe e Simone Santoleri, padre e figlio che oramai da anni non hanno più rapporti con i familiari. Nel processo che si apre domani i numeri sono quelli che spuntano dalle liste testi depositate da procure e difese. Complessivamente 100 di cui 59 dal PM Enrica Medori. Giuseppe e Simone Santoleri da maggio sono in carcere per omicidio volontario aggravato con il padre che accusa il figlio di aver ucciso la madre e di averlo costretto a tacere. Il primo è assistito dall'avvocato Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli, mentre Simone dagli avvocati Gianluca Carradori e Gianluca Reitano. Nel voluminoso fascicolo messo insieme dal PM hanno assunto una rilevanza particolare alle intercettazioni ambientali catturate in carcere. Non solo tra Simone e altri detenuti in cui l'uomo avrebbe lasciato intendere un suo coinvolgimento, ma anche quelle tra Giuseppe e altri reclusi. Simone e fino a qualche mese fa anche Giuseppe ha sempre respinto ogni accusa sostenendo che quel 9 ottobre del 2017 ha incontrato la mamma Giulianova, ma poi il padre l'ha accompagnata a Loreto e qui l'ha lasciata. Ovviamente di diverso avviso inquirenti e investigatori, secondo i quali la donna sarebbe stata uccisa nel primo pomeriggio dopo essere arrivata a Giulianova per vedere ex marito e figlio, strangolata al termine di una lite con il corpo caricato in auto e scaricato sulle rive del Chenti a Tolentino.